Un sorriso che non può passare inosservato ed una bellezza mediterranea che incarna i colori della nostra terra. Salentina d'adozione, già da pezzaioli, si prepara ad affrontare la sua ennesima sfida. Domenica ci sarà la tappa di Miss Puglia, sarebbe una fascia davvero straordinaria che vorrei indossare io. Mi sento in qualche modo di rappresentare un trade union tra il nord, che è la mia terra natale, io sono nativa di Montichiari, ma poi dieci anni fa io ho scelto di trasferirmi nel Salento, ho scelto Lecce, la città in cui vivere e dove far nascere mio figlio. Quindi mi sento di rappresentare a pieno i valori di questa terra, le tradizioni e anche il dialetto leccese, perché no? Dopo Miss Mondo Italia nel 2010, a soli 16 anni, che l'ha portata a gareggiare per Miss Mondo arrivando al sesto posto, per Miss Universo Italia nel 2015, Giada dopo essere diventata mamma, si rimette in gioco e questa volta lo fa con delle motivazioni in più. Essere mamma è un valore aggiunto e non una discriminante, ci tiene a precisare. Giada hai partecipato nella tua carriera a tante competizioni, cosa vuol dire questa volta partecipare a Miss Italia? Io credo che non esista miglior contesto in questo preciso momento che sia in grado di valorizzare a 360 gradi la bellezza della donna nella complessità delle sue caratteristiche psicofisiche, motivo per il quale ho deciso di partecipare a Miss Italia, lo faccio da mamma, perché vorrei che passasse un messaggio a tutte le donne, mamme come me, è che l'essere mamma non deve essere considerato un limite, ma un valore aggiunto. E certamente non tutte hanno l'ambizione, l'aspirazione di diventare delle modelle o di lavorare nel mondo dello spettacolo, ma far passare il messaggio che una mamma deve avere uguali opportunità a quelle che non ha una mamma è una cosa importantissima, perché molto spesso accade che una donna dopo aver avuto un bambino tira i remi in barca, annulla la propria personalità e si sottomette a quelle che sono un po' i voleri dei partner e delle circostanze e non va per niente bene, questa è una cosa per la quale io lotto per me stessa e per gli altri. Ed allora in bocca al lupo a Giada, chi di grinta e passione ne ha da vendere e rappresenterà il Salento nel concorso di bellezza più famoso del settore. Essere riuscita a migliorare sotto l'aspetto dell'empatia, sono diventata anche io una donna del sud carismatica.